Buon pomeriggio dalla redazione di Flores Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 398 Val di Cornia, traffico rallentato per un incidente che coinvolge più veicoli a 5 km dal bivio per Monte Gemoli in direzione di Monte Rotondo Marittimo. Traffico regolare sul resto della rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla FIPILI fare attenzione per personale su strada per lavori in direzione Livorno, allo svincolo di Ponte Terra Ovest Ponsacco e tra Vicarello e Lavoria in direzione Firenze. Sulla statale un'Aurelia oggetti su strada a 2 km dallo svincolo di Gavorrano in direzione Roma. In A12 controllo della velocità tra Cole Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!